Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il decreto di cui oggi discutiamo la conversione contiene norme a noi già note, perché si interessa della disciplina, della circolazione degli italiani sul territorio nazionale. Si interessa poi del trattamento sanitario per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie e si interessa infine della distribuzione di alcuni ristori ad alcune categorie. Faccio subito un rapido cenno a quest'ultimo profilo ancora una volta. Siamo in presenza di distribuzione di fondi assolutamente insufficienti e continuiamo ad assistere alla distribuzione secondo criteri che potremmo definire ad oras. Una distribuzione caso per caso, ipotesi per ipotesi, costringendo i soggetti avvantaggiati ad inseguire la norma che a loro si applica. Certamente tutto questo non aiuta l'ordine, la chiarezza, la qualità del rapporto tra il cittadino e lo Stato. Per quanto riguarda poi le norme che disciplinano la circolazione sul territorio, direi che ormai sotto i nostri occhi che queste norme abbiano perso effettività. E non lo dico perché alcune di queste norme già riguardano periodi alle nostre spalle. Lo dico perché ormai gli italiani non ci capiscono più niente e procedono secondo buonsenso. Le persone non sanno più dove si possono spostare, quando si possono spostare. Gli italiani ormai si stanno autoregolando e le norme che noi approviamo sono ormai assolutamente autoreferenziali. Potrei ancora una volta sottolineare quanto sia dannoso per l'ordinamento introdurre norme così contorte di difficile lettura. Ma pensiamoci, se noi dobbiamo dire ai cittadini dove, come e quando spostarsi e le norme sono di difficile comprensione per noi che le scriviamo, per noi che le studiamo, sono di difficile comprensione anche per i giuristi. Figuriamoci per chi nella vita fa altro e vuole avere una risposta ad una semplice domanda. Posso andare dai miei parenti? Quando posso andarci? In quali condizioni? Dalle norme non si comprende. Ormai la fonte normativa si ha soltanto leggendo il giornale, quindi ormai la nostra gazzetta ufficiale non è più quella tecnicamente tale, ma sono i mezzi di informazioni. Ma tant'è, io me ne posso curare poco perché tutta questa roba diventerà vecchia, sparirà, si scioglierà come neve al sole. Ma all'interno di questo decreto c'è una parte che invece innova il diritto sostanziale e rimarrà. Ed è la parte che io utilizzo come esemplificativa del modo di procedere di questo Governo. E' l'articolo 1 quinquies. Attenzione, è una norma delicata, importante. Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti-Covid per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali. Se avete dimestichezza e avete dimestichezza con le norme che tutelano i più deboli, sapete certamente che questo argomento è stato già trattato con la legge del 2017, in particolare con la legge 22 dicembre 2017 numero 219, una legge voluta dalla precedente legislatura che era guidata dalla sinistra. Una legge tale perché non di provenienza governativa, ma una legge legge, cioè originata dalle camere. E quella legge al pregio della chiarezza dice che il trattamento sanitario è deciso, faccio una rapida sintesi, da chi ha la cura dell'incapace e se per caso c'è un dissenso sulla somministrazione della cura, su parere del medico curante, ci si rivolge al giudice tutelare per stabilire una volta per tutte se quella persona vada o no sottoposta al trattamento sanitario. La norma c'era già. Forse meritava qualche correttivo. Ebbene, il legislatore è intervenuto. È intervenuto con questo articolo 1 quinquies. I primi due commi, in modo incredibilmente involuto, e non li leggo per non perdere la vostra attenzione, ammesso che ci sia, non fanno altro che ripetere ciò che già sappiamo, ciò che è già nell'ordinamento. Ma cosa accade con i commi successivi? I commi successivi dicono che colui il quale ha il compito di decidere se sottoporre o no l'incapace al trattamento, deve decidere, sentiti, i parenti, anche qui semplifico, dell'incapace. E dice la norma, il consenso al trattamento non può essere dato se queste persone si rifiutano. Bene. Ma qui il legislatore dimostra, immediatamente dopo, di non avere le idee chiare, di non sapere il legislatore cosa lui sta pensando, perché precisa che se queste persone si rifiutano, il direttore sanitario della struttura si rivolge al giudice tutelare al solo fine di ottenere il consenso. Voce dal sen fuggita. È chiaro che in sede interpretativa questa parte può significare che poi si decide se trattarlo oppure no. Però il legislatore, a essere rigorosi e a limitarci ad un'interpretazione letterale, sembra dire che se i parenti dicono no, bisogna dire sì. E il direttore sanitario si rivolge al giudice tutelare per essere autorizzato, cioè al solo fine di ottenere il consenso. Ma non basta. Se il giudice tutelare non convalida il consenso e non lo trasmette entro brevissimi termini ai soggetti interessati, il consenso si ritiene automaticamente convalidato. Di tutto questo c'è bisogno? No, perché l'ultimo comma della norma ricopia sostanzialmente la disposizione del 2017 e stabilisce che in caso di dissenso sulla erogazione del trattamento ci si rivolge al giudice tutelare, creando un'ulteriore confusione in sede applicativa. Ma dimenticandosi rispetto alla norma del 2017 che l'ultima parola deve darla, deve dirla il medico curante, colui che conosce le condizioni patologiche di queste persone. Che cosa emerge da tutto questo? Primo, una norma di difficile lettura. Questa norma non si rivolge a magistrati, ad avvocati, a professori universitari. Si rivolge a coloro che hanno la cura di persone più deboli, persone che sono chiamate a decidere in tempi rapidi cosa fare. Ve li immaginate nell'imminenza della vaccinazione, magari in uno stato di emergenza, mettersi a leggere questo complicato articolo e capire che cosa significhi e capire che cosa si deve o si può fare. Ma la cosa grave è che tutto l'articolo è scritto nel nel modo di ottenere in modo surrettizio una vaccinazione obbligatoria, nascosta e travestita per i soggetti più fragili. Potrebbe essere una scelta politica e se fosse una scelta politica trasparente e chiara, anche degna di rispetto perché idonea a essere discussa. Ma qui voi state introducendo una vaccinazione obbligatoria sotto mentite spoglie senza mettere i cittadini in grado di capire quale sia la situazione. I disabili non sono cittadini di serie B, non sono persone a cui noi possiamo imporre in modo surrettizio e travestito un obbligo che non abbiamo imposto a tutti gli altri. Sono cittadini come noi e allora se la vaccinazione deve essere obbligatoria che lo sia per tutti, ma se non deve essere obbligatoria che non lo sia per nessuno, perché altrimenti voi state governando, rompendo il patto di lealtà con i cittadini italiani e questo è grave perché lo fate vulnerando l'ordinamento. Quello che scrivete rimane, fa parte dell'ordinamento positivo e un domani il danno alla chiarezza del sistema sarà ciò che rimarrà del vostro operato. Parafrasando Manzoni mi verrebbe da dire che a questo governo bisogna raccontare le cose chiare perché a lui poi tocca imbrogliarle. Ebbene, sulla base di queste considerazioni io dichiaro il voto contrario e lo faccio con orgoglio perché a difesa dei più deboli della Lega Salvini Premier, partito sardo d'azione. Grazie.